Ciao a tutti, ciao a tutti, ecco, ecco come un narcisista ti tradisce fin dall'inizio. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco ufficiale, seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento e sceglierai l'abbonamento che preferisci insomma. Ma veniamo al tema. Ecco come un narcisista ti tradisce fin dall'inizio. Allora, devi tenere presente alcune cose, alcuni tratti fondamentali. che se ha a che fare con un narcisista o una persona che pensi sia narcisista, manipolativa, questo non è che ti tradisce da un certo punto in poi, uh, mi ha tradito. No, ti tradirà fin dall'inizio. Perché il narcisista o persone manipolative, ripeto, qui nessuno fa diagnosi di dire questo è un narcisista patologico, anche perché ricordo che bisognerebbe, per fare la diagnosi, che andasse da uno psichiatra, uno psicoterapeuta, uno psicologo a farsi di diagnosticare. Ma non lo farà mai. O comunque se lo farà, non è che poi te lo viene a dire a te. Eh, quindi devi tenere presente che tutte le persone che si comportano in un certo modo nei tuoi confronti devi levarti dei coglioni fondamentalmente, possono potenzialmente pericolose. E il narcisista o gli psoronarcisisti, che possono anche essere libertini, ti tradiscono fin dall'inizio. Tutti quelli che ad esempio all'inizio si presentano come adorabili, ad esempio annunciando ad alta voce, anche in pubblico, soprattutto in pubblico, quanto sono felici di averti conosciuto, eccetera, sgorgano di sentimenti, però noterai che questa tipologia di persone tende a vivere un po' la vita a compartimenti stagni. Cioè nel senso che, sì, cerca lui di infilarsi magari dentro al tuo gruppo di amici, cerca di entrare dentro al tuo gruppo di amici, ma difficilmente ti presenta poi le persone importanti per lui. Perché? Perché dovrebbe presentarle poi a tre, quattro, cinque donne, no? Non è che può portare a conoscere la mamma a cinque donne diverse. Perché questa tipologia di persone, quindi se è noto un comportamento di questo genere, è perché queste persone hanno già tante relazioni in parallelo. E l'unico modo per vivere delle relazioni in parallelo è viverle, come posso dire, a compartimenti stagni. A compartimenti stagni. A compartimenti stagni significa che queste relazioni le vivono, diciamo, senza essere, come possiamo dire, le vivono senza essere di fatto, diciamo, relazioni, come possiamo dire, tradizionali, ma proprio a compartimenti stagni. Quindi mantengono una loro, proprio una loro separazione. E mantenere questo grado di separazione è l'unico modo che li permette di farti le corna. Perché? Portano avanti proprio un qualcosa di parallelo, no? E questo è la prima cosa. E quindi dal loro punto di vista non ti tradiscono neanche, perché hanno tante relazioni. È come se nella loro vita avessero tante caselle, no? C'è una casella sempre vuota. Cioè nel senso che mettiamo che abbiano quattro caselle, poi ognuno dipende come funziona, perché funziona in modo molto rigoroso, scientifico, tre caselle sono piene e sono le storie che portano avanti. Una casella è variabile. Variabile nel senso che può essere vuota, può essere piena, e dove entrano le nuove. E quando entra una nuova deve uscire per forza una vecchia per un certo periodo, perlomeno. Anche perché poi troppe caselle diventa difficile da gestire, no? Quindi le persone, diciamo, di questo genere, come dire, tu te ne rendi conto perché non ti vorranno mai a una cena di Natale in famiglia, non ti vorranno mai, che ne so, a presentarti a tua madre. Potrebbero fare qualcosa, magari una volta potrebbero fare un capodanno di nascosto, una gita, una vacanza di nascosto, però sempre in modo molto misterioso, insomma. Ecco, quando incontri persone che hanno, mantengono questa, quest'aura di mistero, in realtà, e che tra l'altro seduce, in realtà quest'aura di mistero significa soltanto che hanno più relazioni che portano avanti in parallelo. Tutto lì non significa nient'altro, non significa che sono, come dire, persone affascinanti, persone misteriose. Assolutamente no. Poi possono essere anche affascinanti. Per carità, non sto dicendo che non devono essere affascinanti, ma solitamente sono precisamente persone che in qualche modo hanno questa capacità, tra virgolette, di manipolare proprio la realtà e ti mentono sin dall'inizio. Quindi, la cosa interessante è che normalmente noi riconosciamo una persona che mente e anche dentro di noi insito un programma del genere quando c'è qualche variazione, no? Perché, come dire, e questo è quello che succede normalmente, se tu hai un ambito di una relazione di coppia, poi lui a un certo punto inizia a cambiare atteggiamento, inizia a cambiare modo di fare. Prima era trasandato, adesso si tiene in forma. Prima eri in un modo, poi nell'altro. Inserisce nuovi hobby, inserisce nuove cose. Come dire, al 99% c'ha una nuente, c'ha una storia e lo sgami, no? Lo sgami per questo motivo. Invece il narcisisto, questa tipologia di persone, è molto più difficile da scoprire, è molto più difficile da sgamare, proprio per il fatto che, come possiamo dire, proprio per questo fatto, perché non cambia, quindi non ti dà variazioni, perché le corna non è che te le fa da un certo momento in poi, non ha mai smesso di fartele, te le fa dall'inizio, dall'inizio della storia. Quindi tu, come dire, diventano, diventa la routine fondamentalmente. Ecco quindi che diventa importante imparare a riconoscere questa tipologia di comportamenti. Se tu inizi a riconoscere questa tipologia di comportamenti, che, ripeto, sono un mantenere un po' le distanze, mantenere la vita a compartimenti stagni, non farti mai entrare nella tua vita, non invitarti mai a Natale, a cena con i genitori, o a pranzo, insomma, non invitarti mai con degli amici, o soltanto con certi amici, quelli che magari sanno. Perché poi, come dire, è una cosa interessante, no? Le persone vanno sempre in gruppo, no? Ci possono essere delle persone che hanno più o meno lo stesso modo di fare, per cui si fanno a spalla vicendevolmente uno con l'altro. Ecco, quindi, presta attenzione a questi comportamenti, perché se ci sono, quindi non è che prima o poi ti tradirà, ti tradisce da subito. Quindi le corna ce le hai istantanee, ce le hai da subito. Questo è un punto fondamentale. Fai attenzione se non vuoi essere cornuto, oppure, insomma, alla fine cornuta e mazziata è ancora peggio. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente iscriviti al canale e attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E se ti va, fai una donazione al canale, perché fare una donazione al canale è sempre utile. D'altra parte non ti costa nulla fare una semplice donazione che può motivare, diciamo, a fare sempre video più interessanti. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo.